Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa che è una maglia pre-match della Juventus per la stagione in corso, la 2023-2024, in edizione FAN. Grazie a tutti. La maglia è molto bella, mi piaceva, non è una maglia ovviamente da gara, è una maglia pre-match, però questa zebratura che diciamo ricorda il singolo della squadra è veramente molto bella. Il costo lo vedete qui sopra, non c'è niente da aggiungere, decidete voi cosa fare. Se volete ordinare la maglia trovate come al solito tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché sul sito insieme a questa troverete tantissime altre maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità della maglia, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale. È un piccolo gesto ma ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima!